Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special, sì la Juve è in finale di Champions League per la seconda volta in tre anni e la possibilità di giocarsi questa competizione speriamo ovviamente andrà meglio di due anni fa e se l'è conquistata contro un Monaco diciamo meglio forse all'andata anche se nel secondo tempo di oggi ha impensierito un po' la Juve ha trovato anche il gol che è forse l'unica pecca di questa semifinale devo dire che la Juve mi è piaciuta tanto stasera soprattutto nel primo tempo ha giocato alla grande dopo i primi minuti in cui era un po' troppo rilassata infatti Mbappé ha colpito anche il palo poi è uscito alla grande, ha trovato due gran gol, ha sprecato anche qualche altra occasione c'è stato un Dani Alves secondo me mostruoso oggi soprattutto nell'assist a Mandzukic e poi anche nel gol al volo ragazzi che coordinazione quindi una conquista di una finale si va a Cardiff stasera diciamo che abbiamo visto una buona Juve forse nel secondo tempo si è rilassata un po' troppo dopo l'uscita di Dybala che Dybala anche stasera a parte il gol che si è un po' magnato per il resto ha giocato davvero bene, faceva girare la squadra anche nell'occasione del primo gol ha avuto pazienza di far girare il pallone sulla destra da cui è poi venuto l'assist di Dani Alves devo dire anche bravo Souvasic appunto che ha negato diversi gol alla Juve per il resto anche Mandzukic ha giocato bene anche se qualche volta faceva un po' di falli, protestava un po' troppo stasera però ha giocato alla grande come sempre ditemi cosa ne pensate qui sotto, chi secondo voi è il migliore in campo cosa dovremmo aspettarci da una finale contro un Real Madrid veramente mostruoso e ditemi appunto cosa ne pensate della partita anche di stasera o complessivamente della semifinale in generale domani vi ricordo uscirà la reazione del web sperando di trovare qualche meme divertente in giro lasciate un like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti un saluto da Carmi Special, alla prossima, ciao!